Non solo vino, è stato presentato al Vinitali di Verona Extravergine et Gallipoli 2015.it, la manifestazione che racchiude tre importanti concorsi dedicate all'olio d'oliva, Premio Nazionale L'Oro d'Italia, L'Oro di Puglia e L'Oro del Mediterraneo, che si terrà nella Perla dell'Oionio dal 17 al 19 aprile. L'ideato, organizzato e promosso da Olea, Organizzazione e Laboratorio Esperti Assaggiatori e Dacea, Posidonia e Dugento, con il patrocinio della Regione Puglia e la collaborazione di Coldiretti, Extravergine et Gallipoli 2015.it mira a coinvolgere attraverso una serie di attività non solo le aziende olivicole e gli operatori di settore, ma anche i consumatori. I concorsi, nell'arco degli anni, hanno sempre di più contribuito a valorizzare gli oli della Puglia, gli oli italiani e anche quelli del Mediterraneo. Alla presentazione dell'edizione 2015 hanno preso parte il professore Ettore Franca, Presidente Nazionale di Olea, Giorgio Sorcinelli, Segretario Nazionale di Olea, Luca Tommasi, socio di CEA Posidonia e Fabrizio Nardoni, Assessore alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia. Facciamo conoscere alla gente, al consumatore, che esiste olio e olio, che un olio ha certe caratteristiche, un altro ne ha altre, questo è più adatto a una cosa, questo è più adatto all'altra e soprattutto cercare di non avere sulla tavola degli oli di qualità scadente, cioè ricchi di difetti, cosa che capitava. A Gallipoli l'extravergine d'oliva sarà protagonista di una serie di iniziative. Olio di gomito dedicato alla gastronomia, l'assaggiatore dei 2015, raduno internazionale di assaggiatori, extravergine, piacere, un mini concorso di assaggiatori di olio per cuochi, chef e pasticceri. In questo concorso noi abbiamo la possibilità di promuovere la sana cultura dell'alimentazione attraverso tutta una serie di iniziative che si rivolgono a persone magari semplicemente interessate alla buona alimentazione e all'olio in particolare, ma anche agli operatori del settore che utilizzano l'olio e che, ci rendiamo conto, non sempre lo conoscono e non sempre sanno come utilizzarlo. Dal confronto tra le produzioni e dal contributo dato dagli assaggiatori, la qualità dell'olio è cresciuta e in questo percorso non è mancato il contributo della regione Puglia. Noi siamo ben felici di partecipare a questo evento, di promozionarlo, perché siamo convinti che il sistema olivicolo va particolarmente valorizzato, soprattutto in Puglia, visto che siamo tra le regioni dove si produce maggiore quantità di olio. E appunto per questo abbiamo finalmente deciso di intraprendere anche un'azione di sviluppo e di promozione del sistema olivicolo.